40 posti letto per 5 abitazioni private. Tanto hanno messo a disposizione gli abitanti di Rappone per accogliere i profughi ucraini in fuga dalla guerra. Poco meno di 1000 abitanti, ma tanta solidarietà, di cui la sindaca di Rappone Felicetta Lorenzo si è fatta portavoce questa mattina in Prefettura Potenza durante la firma della prima convenzione tra i due enti. Non ci illudiamo magari che staranno sempre con noi, sicuramente avranno la volontà, il desiderio di ricongiungersi, però per noi è un arricchimento, quindi per il tempo che staranno con noi, noi saremo felici e li accoglieremo con gioia, con tutto quello che meritano e ancora di più. L'accordo prevede la garanzia da parte del Comune della prestazione di ulteriori servizi, non solo vitto e alloggio, in particolare mediazione linguistica, assistenza sanitaria e psicologica. Da gran parte dei profughi in Italia, sono oltre 75 mila, sono accolti da associazioni o da privati, quindi la rete che in questo momento sta sostenendo il massimo del carico è quella appunto delle associazioni e dei privati. Un tipo di accoglienza, quella diffusa, che va sostenuta con misure economiche ad hoc, come già delineato nell'ordinanza del capo del Dipartimento di Protezione Civile Fabrizio Curcio, per regolare gli aiuti. Ma dirlo sono anche i numeri. 931 i profughi ucraini accolti in 69 comuni della nostra regione, 17 sono minori non accompagnati, 283 i bambini in età scolare, tutti presi in carico dalla rete privata e del terzo settore.